11 febbraio ore 23.30 silenzio assoluto si parte si parte il resto è un pochettino si che si mantengono bene tutto sommato è farinosa che ambiente siamo già a metà gita un pochettino Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ecco che siamo in vetta, 7 minuti esatti, anche questa è fatta, era meglio quella di ieri però, 3 ore e mezza. Ecco qui vengono a prendere noi matti ovviamente. Eccoci in cima. Vai, vai, vai. Chiudo ragazzi, si va. Ehi, non male. Se qua c'è il muretto alla fine, dov'è? Andrei molto tra. Il muretto è qui davanti? No, io mi butto giù di qua. Yuhu! Ah sì, qui che va bene. Che miseria! Più impegnativa di ieri. Siamo già giù, calcio. Peccato. Vai Francesco! Bella discesa! Eccoci arrivati alla macchina. Ore. Mezzanotte e due minuti. Totale salite e discesa 22 minuti. Bello però. Basterebbe fare una decina di volte. Grazie a tutti.